a furama, a furama sarebbe questa nebbia pesante, questa nebbia pesante che di sera fanno fiori e fanno fiori a coppare piante di frutto, quindi tu ti aspetta una bella annata di ciliegia, fanno pulire, tu arrivi a furama, quest'area pesante, fanno fiori e tu hai un raccolto minore, cioè praticamente a tramonti ci sta la rosa dei venti, tramontana, a furama, ci sta tutto cosa, noi combattiamo, a noi si chiama uschia, di solito sta i fossi, perché c'è il mare vicino e questa è la montagna, si ferma, tramonti vuol dire tra i monti e l'aria umida si staglia e si ferma, ma no, ci sta, però che si chiama a furama sarebbe un famoso uschia, uschia e furama, perché tutti sono tutti belli pianti, tutti i fiori, e noi si metterà grandi, e noi si metterà, cioè stai sempre qualcuno contro te, infatti non dovresti stare uschia di forza e giove niente, eh lo so, ecco, ma c'è una cosa che si è riascata, come fa, va bene così, è buono, esiste, se mi ambrate un'altra cosa, voglio ci stiamo ※ Sì sì! aì